È stata un'estate eccezionale per lo sport italiano, 40 medaglie per l'Italia, 20 medaglie per la polizia, 50%, 10 medaglie d'oro per l'Italia, 5 per la polizia, quindi successi straordinari, 100 metri, gara regina delle Olimpiadi, 4%, 2 medaglie d'oro, Marseille Giacos, salto in alto Gianmarco Damberi, e nella 20 km ha veramente messo in linea tutti quanti, Massimo Stano. Passiamo al canottaggio, è una medaglia importante perché è la prima medaglia conseguita dall'Italia nel canottaggio femminile, siamo nel doppio pesi leggeri, Federica Cesarini, insomma andiamo alle medaglie, l'abbiamo già nominata, medaglia d'oro, Bebevio, Francesco e Bocciardo, passiamo al nuoto, con due ori e un argento, eccolo Francesco, Antonio Fantin, 5 medaglie per lui, un oro, 3 argenti e un bronzo, e tra l'altro anche un record del mondo, hai fatto poco l'amplein, Carlotta Gilli, anche per lei 5 medaglie. Due medaglie, due medaglie d'oro, due d'argento, una di bronzo, e Stefano Raimondi, per lui 7 medaglie, un oro, 4 argenti e 2 bronzi. Vi ringrazio anche e soprattutto per tutto quello che voi fate e per quello che dite, perché tutti, tutti voi che in questo momento, chiaramente c'è stata una, grandi apparizioni pubbliche, grandi iniziative, tutti avete speso delle parole che sono importantissime per dare dei valori giusti. Vi siete dimostrati proprio profondamente appartenenti alla polizia e con i valori estremamente radicati. E questi i vostri successi sportivi, poi sono uno sprone, un esempio per tanti ragazzi. Tra le attività delle fiamme oro noi apriamo palestre, centri in situazioni territoriali dove c'è anche una difficoltà, anche un disagio. E vedere atleti così importanti che si prestano con i ragazzi, che parlano, che danno il loro esempio, il loro modo di essere, bene, questo li rende più volte campioni. Poi, sportivamente, non ho parole perché ci avete davvero emozionato. Ricorderemo quest'estate per le 109 medaglie olimpiche, 40 medaglie olimpiche e 69 medaglie paralimpiche. Le fiamme oro, quello che fanno anche queste strutture sul territorio, perché? Per recuperare anche persone che casomai, ragazzi che non hanno una speranza di vita, perché vivono in zone degradate, perché si trovano, non vedono davanti a loro un futuro. E il futuro, ecco, può essere dato dallo sport. E il fatto che le fiamme oro abbiano anche dislocato delle strutture sul territorio è importantissimo, perché se noi pensiamo anche a Rione Sanità a Napoli, dove si deve vedere non soltanto la criminalità, ma vedere che un ragazzo può uscire e può tramandare anche agli altri giovani veicolari che stanno lì. Guardate che ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Allora davvero grazie, grazie di tutto. Viva le fiamme oro.